La seduta del 14 maggio Nel pomeriggio l'Assemblea ha respinto la proposta di legge al Parlamento per l'introduzione di codici identificativi alle divise delle forze dell'ordine ed ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di condanna delle violenze contro il cantiere della TAV. Il Consiglio regionale al Salone del Libro Un calendario fitto di incontri, convegni e spettacoli contraddistingue la partecipazione del Consiglio regionale alla 26esima edizione del Salone del Libro di Torino all'ingotto dal 16 al 20 maggio, inaugurato dal Ministro per i beni e le attività culturali Massimo Brei. Il Consiglio regionale è ospitato nello stand del Padiglione 3, denominato Spazio Piemonte, allestito da Consiglio e Giunta regionale, provincia e città di Torino. Studenti premiati per l'Europa 165 studenti di 59 scuole superiori del Piemonte, vincitori dell'annuale concorso Diventiamo cittadini europei, sono stati premiati nell'aula del Consiglio regionale dal Presidente Valerio Cattaneo e dal Delegato alla Consulta europea Fabrizio Comba. Erano presenti i professori che hanno tenuto le conferenze preparatorie. Il premio consiste in un viaggio nelle principali sedi istituzionali dell'Unione Europea. Concerto del 2 giugno I 200 anni della nascita di due giganti della musica, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, faranno da sfondo il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica, organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 20 e 30 presso l'Auditorium RAI di Torino, con un ricco programma di sala che vedrà, tra gli altri, brani tratti da Il Trovatore, Nabucco, l'olandese volante, sotto la guida del direttore Daniele Rustioni. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, previo ritiro dell'invito presso gli sportelli dell'Auditorium. Libro sui comuni del VCO Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, e di numerosi sindaci e autorità, è stato presentato nella sala Ravasio della provincia del Verbano, Cusi-Ossola, il libro dedicato ai comuni del VCO. 77 comuni, per lo più di piccole dimensioni, una popolazione di circa 163.000 abitanti, una superficie complessiva di oltre 2.250 km quadri. Il libro sarà inviato alle biblioteche per essere a disposizione dei cittadini. Il libro sarà inviato alle biblioteche per essere a disposizione dei cittadini.